Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, sono di nuovo io Jacopo e questa volta abbandono i panni del Capitan Findus per commentare insieme qualche battaglia terrestre degna di interesse, occupando così il tempo in attesa di Rom 2. Mando agli indugi, vi provino subito questa battaglia a Fiume Scinano, Fondi Grandi, di un avversario italiano, Bel Rios, dei Total War Rebel, che saluto. Questa battaglia è interessante perché stufo di farmi fare il culetto da utenti particolarmente schillati con i moschetti, decido anch'io di adottare questa build di moschetti supportati dalle lance alle spalle, che richiede molto micromanagement, ma se utilizzata bene è molto fruttuosa. Ho fatto parecchi errori che però non mi hanno compromesso la vittoria e nonostante ciò mi ritengo abbastanza soddisfatto della prestazione generale col mio avversario, per cui ci tenevo a commentarla insieme. Descriviamo rapidamente lo schieramento, abbiamo due cavallerie leggere, una cavalleria con gli ari qui, che mi servono più che altro come elemento di disturbo per il mio avversario, anche perché vedete mi gioca due grandi guardie molto schillate. Poi due moschetti samurai con gli ausiliari con nainata dietro. Questo che arriva baldanzosamente è il mio generale sparacchiante. Abbiamo anche qui ausiliari con nainata e due samurai con nainata che non devo far altro che holdare l'avversario. Moschettiere a cavallo e qui nascoste, da utilizzare come elementi di rinforzo, la cavalleria leggera e la cavalleria di fuoco. Il mio avversario dal canto suo gioca cavalleria leggera, due nodaci, due samurai con katana, due ausiliari con nainata, questi arcieri a cavallo, che le stanno già prendendo dal mio arciere sparacchiante generale, e il generale del mio avversario che è invece un generale votato al corpo a corpo. Dunque, vediamo un po'. Allora, iniziamo subito a schermagliare. Partita piuttosto ragionata questa. tra gli arcieri del mio avversario che cercano di bersagliare i miei moschetti e il mio avatar. Vediamo qui, prende il malus delle frecce fischianti. Nel frattempo mi in possesso del santuario con i moschetti che avevo lasciato defilati sulla sinistra all'inizio, perché pensavo che il mio avversario cercasse di passare da entrambi i lati del fiume, invece si è concentrato solo sulla destra. Vediamo, qui fa una cosa strana. Cerca, non so, forse cerca di provocare l'avanzata dei miei moschetti o del mio generale, facendo fare continuamente avanti e dietro ai suoi arcieri che però in questo modo non riescono a sparare bene e quindi vengono decimati e a breve andranno in rotta. Nel frattempo avanza con la cavalleria leggera. Io non so, probabilmente ero perso a guardare da un'altra parte e non me ne accorgo tempestivamente, guardate lui come fiancheggia bene. Mi passa avanti troppo presto però e si becca una salva importante dai miei moschetti. Io vado avanti con gli ausiliari, ma ormai mi ha fatto un bel danno, mi ha ucciso circa una ventina di unità. Diciamo, errore che io lo metterei subito nella lista di uno trai di set home, ma non gravissimo. Nel frattempo i miei moschetti a cavallo si prendono cura degli altri ausiliari con naghinata e sono costretti a ripiegare frettolosamente. Lui, il mio avversario quindi, ecco, in questo modo ha notato che tenevo i moschetti a cavallo nella foresta nascosti e quindi è cauto ad avanzare da quel lato con la cavalleria. Qui fa una cosa che non riesco a spiegarmi bene. Mi manda avanti così da sole, completamente isolate, allo sbaraglio. Le unità di ausiliari con naghinata, che adesso, come vedrete, saranno salutate a suon di pallottole dai miei moschetti. E non contento di questo, manda avanti anche, sempre da sola, la sua seconda unità di ausiliari. Mossa discutibile, non so, forse mirava a tenere impegnati i moschetti mentre magari pianificava qualche cos'altro, ma non me lo so spiegare bene. Ecco, levo il generale di mezzo che intracciava la perventoria dei miei moschettieri e qua adesso decide di spostare tutto l'esercito e a breve farà lo stesso anche con la cavalleria. Eccola qui. Allora, particolari commenti qui non ne vedo, a parte ecco non mi spiego perché abbia buttato così gli ausiliari con naghinata. Mentre qui le cose si fanno interessanti perché qui ci sarà il mio pretenzioso tentativo di holdare due grandi guardie con la cavalleria leggera e due cavallerie leggeri e una cavalleria con cogliari. E cerco di andare a supporto con i miei moschettieri a cavallo, ma il mio avversario molto intelligentemente dopo aver motivato tutto l'esercito con la chiamata raccolta, mi carica alle spalle i moschettieri. Io non me ne accorgo e quindi i miei moschettieri a breve ci saluteranno. Qui la situazione invece volge... è ancora sostanzialmente in equilibrio. I nodaci sono stati decimati ma grazie al Banzai riescono a resistere ai miei ausiliari e i moschettieri stanno mandando in fuga. Riesco a mandare in fuga invece una unità di samurai con katana e a breve l'altra lo accompagnerà. Ecco ho vinto anche con i nodaci perché ho vinto l'effetto del Banzai e qui si profila quindi la mia vittoria. Nel frattempo di qua ovviamente sono stato abbastanza malmenato dalle due grandi guardie che però hanno subito delle perdite discrete, una è andata anche in fuga e adesso sovraggiunge la mia riserva, quindi la cavalleria di fuoco supportata dalla cavalleria leggera. Quindi adesso tutto quello che devo fare è mandare il generale in aiuto che con le frecce in mezzo a questo mischione va a bersagliare il suo avatar e ecco basterà mandarlo in rotta per decretare la mia vittoria. E con questo quindi ci avviamo alla fine. Che dire, battaglia strana, piena di luce e ombre, quindi con errori grossolani e buone giocate, sia da parte mia che da parte del mio avversario. Però, ecco, pensavo potesse essere un buono spunto anche per impostare eserciti che puntano molto sui moschetti seguendo ad esempio la mia build. Che dire, come sempre vi saluto al prossimo video, mi raccomando siate prodighi di commenti nell'apposita sezione, io come sempre vi risponderò. E con questo quindi vi lascio e a risentirci al prossimo video. Ciao a tutti!